Meno vino ma sempre di ottima qualità. E' quanto si aspetta Coldiretti come esito di questa vendemmia 2019. La produzione di vini in Liguria infatti potrebbe subire una leggera diminuzione quantitativa, circa del 10%, a causa dell'andamento climatico della primavera estate, ma a giudicare dai grappoli la qualità si conferma ottima. Tuttavia per le previsioni, anche sul piano quantitativo, molto dipenderà dall'andamento climatico del resto del mese di settembre e ottobre. I dati Liguri sono leggermente più ottimistici di quelli nazionali, dove per il 2019 si stima una produzione di 46 milioni di etolitri di vino, il 16% in meno dell'anno scorso, con l'Italia che comunque si conferma al primo produttore mondiale davanti alla Francia e alla Spagna. Il vino Ligure, afferma Coldiretti Liguria, è cresciuto scommettendo sulla sua identità. La coltivazione della vite nella nostra regione viene condotta grazie ai tipici terrazzamenti su circa 2000 ettari di terreno, nei quali si producono vini che vantano ben otto doc, tra questi colline di Levanto 5 Teresciac e 3 Colli di Luni e 4 IGT.